Qui a Made Expo, Vannoncini Spa, si presenta con tutte le soluzioni di involucro realizzate negli ultimi anni. Di fatto si presenta come un'officina, un laboratorio di progettazione delle tecnologie costruttive a secco, di edifici ampliati, sopravvizzati e riqualificati nei cantieri negli ultimi mesi e negli ultimi anni. Quindi ogni evento Made Expo per noi significa la presentazione di pacchetti e soluzioni nuove, già adottate in cantiere, quindi realizzate e campionate per i progettisti, a disposizione dei progettisti a livello di soluzione. Quest'anno, tra i vari materiali utilizzati e stratificati, abbiamo introdotto un prodotto termoriflettente, iperisolante a nido d'ape, Ibris di Actis, una vera rivoluzione come aspetto fisico di prodotto e come comportamento del materiale stesso. Soluzione tecnica e prodotto integrabile nei pacchetti parete, sugli edifici e nei involucri nuovi, ma anche e soprattutto nella riqualificazione energetica dei edifici esistenti.